Quando hai un assetto difensivo come quello di oggi, che ti permette di non subire i gol di non concedere niente agli avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.